buonasera amici storia del calcio magnolo benvenuti a un nostro nuovo podcast oggi parliamo di nazionali perché si è conclusa la prima ronda di qualificazioni all'europeo del duemilaventiquattro lo facciamo insieme a Filippo Sassetti buonasera Filippo ciao come stai? Ciao tutto bene felice di essere qua e niente quindi parliamo un po' di di queste giornate della Spagna anche se secondo me si finiscono queste due partite con più domande che risposte però molto interessanti due partite da analizzare si ricordiamo la Spagna ha esordito battendo la 9-3-0 poi però ha perso ieri sera contro la Scozia 2-0 le prime due partite con Luiz della Fuente sulla panchina delle Fuglie Rosse c'era attesa per questo esordio il nuovo mister Riocano che ha preso il posto di Luiz Enrique dallo scorso dicembre ci sono state delle novità la prima formazione ha diciamo ha portato alcune novità non solo in quanto a nomi anche in quanto a modulo anche se secondo me era più unibido fa un 4-2-3-1 e un 4-3-3 però si si è visto un po' il dove le pivote come lo chiamano in Spagna Rodri Merino è tornato Iago Aspas a grande richiesta popolare forse più per quello che per reali esigenze e poi ha con una difesa abbastanza nuova rientro di Kepa insomma sono le novità la Spagna ha risposto abbastanza bene dal punto di vista del risultato un pochino meno della prestazione è vero il 3-0 in teoria un 3-0 non si scute però anche lì c'è da analizzare qualche cosa perché la Spagna non è stata perfetta tu come l'hai vista questa gara con la Norvegia fortunatamente non c'era Haaland se no sarebbe stato magari un altro tipo di test per la difesa spagnola no? Allora si iniziamo parlando che proprio non c'era Haaland che alla fine è la punta di diamante di questa alla fine bella squadra e quindi già partiremo con un handicap è un lavoro più semplice per la porta è nata che davanti a loro c'era Sorlot e e poi dopo è vero che ha vinto 3-0 però ha vinto 3-0 con due una doppietta di Rossello appena entrato all'ottanta quattroesimo tantacinquesimo quindi fino all'ottantesimo la partita è sempre stata e poteva cioè la Norvegia poteva pareggiare e anzi forse il pareggio fino a quel momento sarebbe stato anche giusto e il 4-2-3-1 sinceramente a me non è piaciuto più che altro non è piaciuto tanto per come è stato impostato perché io Gavi lo reputo uno dei migliori giocatori e prospetti di questa selezione e spostato a sinistra ha perso è stato un handicap come allo stesso tempo anche lo stesso Iago Aspas dietro la punta dietro Murata e poi Merino secondo me un bel giocatore però ultimamente lo vede un po' sotto tono e forse l'avrei preferito proprio anche il suo compagno di squadra Zubimendi che invece sta facendo anche lui una ottima stagione e niente poi per il resto di quella partita sinceramente non mi è piaciuta troppo questa Spagna però alla fine non portò il risultato grazie a questa doppietta di Joselu anche all'entrata di Sebaioz che comunque è risultato un ottimo giocatore che è riuscito a dare comunque più vivacità e fantasia alla squadra e niente questo quello che parte. Ricordiamo i cambi in corso sono stati ha tolto Gavi e Iago Aspas quelli che hai detto anche tu che erano quelli apparsi più sotto tono non solo per colpa loro ma magari per una collocazione tattica un po' scomoda diciamo scomoda sono entrati Dani Sebaioz nel ruolo numero 10 Oya Sava si è passato a sinistra al posto di Gavi nel suo ruolo quindi la squadra ha iniziato un po' a andare in maniera differente poi è entrato anche Jeremy Pino sulla destra per Dani Olmo e poi Joselu e Fabian Ruiz per Alvaro Morata e Michel Mirino. È vero che la Spagna aveva sofferto però alla fine ha dimostrato il famoso piano B quello per cui Luis Enrique ha sempre stato criticato l'assenza di un piano alternativo al Tiki Taka in questo caso c'è stato perché Joselu centravanti ha fatto una doppietta su è un attaccante d'aria quindi è stato chiamato a porta per quello. È vero che si è visto un po' uno stile differente rispetto al fraseggio continuo che abbiamo visto al mondiale si sono visti più Spagna più verticale più rapida nel cercare il capovicincio di fronte però questo ha significato anche meno controllo della gara per questo magari ecco la Norvegia poi una volta subito l'1-0 a freddo ha iniziato a alzare il baricentro e avvicinarsi alle parti di Keba comunque ecco il 3-0 tutti felici contenti fino a quando non siamo andati in Scozia e qua c'è stata un po' questa scelta di formazione abbastanza opinabile tu che ne pensi? E allora io iniziamo con che cambiare otto undicesimi mi è sembrato già un bene non mi è piaciuto e soprattutto c'erano posso capire l'entrata di Sevaio che ho giocato bene posso capire anche di Joselu anche se Joselu io sinceramente come hai detto te lo reputo un piano B per questa Spagna e un po' come era alla fine e Fernando Llorente nel Sudafrica 2010 rispetto a Fernando Llorente e Fernando Llorente e Joselu Joselu però era quel giocatore che ti entrava se la partita era bloccata e grazie a colpi di testa te lo risolveva un Dani Guisca nel 2008 per esempio un giocatore delle caratteristiche differenti a quelli tipo Fernando Torres Davi Villa e quindi il giocatore comunque sia per il piano B è vero che entrambi erano stati usati poco però quando sono entrati sia Guisca che Llorente hanno funzionato e come sia nel 2008 nel 2010 quindi sinceramente non mi è piaciuto e vabbè il primo gol è stato per un alla fine dispiace per un capitombolo di Pedro Porro che poi secondo me a me è piaciuto molto di più rispetto a Carvajal è stato propositivo ha provato anche una o due volte qualche tiro quindi io non lo non reputo male la sua partita sinceramente e poi a me che non mi è piaciuto sono stati gli esterni Yeremi e o Yard Zaval che a me sinceramente non mi piace a me dove deve crescere e e poi quindi cioè il soprattutto dopo il gol che non secondo me è stato anche un po' una caduta e la Spagna è stata propositiva ha provato ogni tanto mi è piaciuto di Sevaglios che cercava e cercava anche l'ultimo passaggio spesso anche Merino e anche Rodrigo infatti c'è stato comunque verso la fine secondo tempo che sia Rodri che José Lu e mi sembra proprio Pedro Porro che hanno rischiato di pareggiare e quindi mi è piaciuto questa Spagna rispetto a quella di Luis Enrique perché e quando arrivava nella tre quarti se c'era la la l'opportunità e cercavano cercavano il tiro l'ultimo passaggio però poi e comunque la Scozia molto più fisica e nel secondo tempo è entrato Carvajal che non mi è piaciuto e infatti il secondo gol è stato proprio anche per colpa sua e per già sono andati via in velocità e McTominay comunque ha fatto anche un bel gol però sì non mi è piaciuto proprio di Della Fuente questo cambio otto giocatori e un po' secondo me per fare contento tutta tutta la squadra e non mi porta nemmeno Alex Balde perché comunque Gaiano stava giocando bene e non ha potuto nemmeno sostituirlo perché Balde era finito in tribuna dopo aver giocato la prima partita e poi dopo inizio a perdere inizio a fare cambi e mettere attaccanti su attaccanti perché iniziato ha messo Aspas ha messo Borja Iglesias ha tolto José Lu che comunque alla fine non stava nemmeno giocando male e ha messo Nico mi è sembrato che non avesse l'idea ben chiara di come svolgere la partita però anche questo lo ha cambiato Borja Iglesias per José Lu però alla fine è un cambio ruolo per ruolo perché alla fine si è entrato Aspas al posto di Merino però ha abbassato Sevaios poi è entrato anche Gavi negli ultimi dieci minuti può essere una situazione quasi inutile e secondo me ecco c'è le idee chiare allora partiamo dal punto di vista che le nazionali vanno per affiatamento quindi mi cambi completamente tutta la difesa come poi pretende che giocatori che non hanno mai giocato assieme possano affiatarsi se tu parti non lo so questo magari se fossi stato un amichevole ci sta li cambi 8 lasci 2-3 comunque sia per mantenere un po' come si dice la spina dorsale però in questo caso ecco ha cambiato completamente la difesa in una partita delicata contro la scossa fuori sai che sono una squadra fisica magari non è tanto tecnica e nemmeno ha tanta qualità però ecco magari ti attaccano dal punto di vista dell'aggressività della fisicità quindi secondo me fatto ecco poi balde completamente assente in tribuna morata capitano sabato ieri nemmeno entrato non so alcune scelte ecco geremy pino come detto tu a parte deve crescere tanto però era rientrato nella convocatoria perché pedris era infortunato quindi sarebbe la terza scelta su quel ruolo perché la prima era olmo che ha giocato con il norveggio ha giocato anche bene ha segnato non è stato eccezionale però conto meno sufficiente abbondante e è entrato avrebbe dovuto giocare nico williams secondo le gerarchie però noi è passato avanti e la prestazione è stata quella che è ovviamente la generale in pino non ci si può aspettare faccia il il mbappé della situazione però quantomeno ecco queste è tutta una somma di errori che parte dal fatto degli otto cambi nella formazione che hanno un po' destabilizzato l'ambiente secondo me sì sì sicuramente anche poi sai te guardi anche i giocatori e c'erano vari che comunque che lo stesso david garcia che non si erano mai trovati a giocare partite a livello internazionale e e ti ritrovi come una squadra scozzese che gli scozzesi ieri sono andati andavano duro hanno giocato molto di fisico e di corpo lo stadio si è sentito e quindi forse c'era c'era bisogno di come dici te di una squadra più sicuramente io non avrei fatto così tanti cambi e se vuoi se vuoi fare se ne vuoi togliere qualcuno toglieli però tanti mi è stonato sì ripeto ecco poi è vero che ci sono anche due giocatori che non sono al top della forma michael l'uaiasara il uno contro la norvegia entrò fece abbastanza bene però è lontano dalla forma migliore lo stesso gaia ultimamente infatti era a rischio anche con vocazione si pensava che magari poteva finire anche lui nella lista dei tagliati è rientrato david grazia come detto tu un esordiente non ha mai giocato assieme a nico martinez lo metti subito là serve l'affietamento secondo me quanto meno nascio avrebbe dovuto giocare poi se vuoi cambiare il centrale mancino perché magari la porta non ha convinto mettendo nico martinez ok però quanto meno ecco la se baios ci sta però comunque sia stai quando stavano nel finale magari poteva entra anche a per ruiz per esempio e magari offri qualcosa in più però ecco queste purtroppo sono chiacchiere che stanno che stanno a zero che lasciano il tempo che trovano perché comunque sia ecco facile parlare dopo però ecco c'è tanto da lavorare come hai detto tu all'inizio ci sono molti più dubbi che certezze dopo questa giornata e adesso la qualificazione non leggerei troppo pericolo anche perché poi l'hanno avrei già pareggiato in casa con la georgia quindi alla fine ecco la scossa è vero che appunto il giopiano con se punti ne passano direttamente le prime due la terza addirittura c'ha facilità di ripescaggio in base ai risultati della nation league quindi sarebbe una combinazione di fattori incredibili per cui la spagna non si qualificasse alla fase finale dell'europeo però comunque sì ecco eh magari qualche intoppo imprevisto perché le prossime gare saranno con cipro e georgia quindi sarà obbligato a vincere sì o sì senza fare troppe esperimenti poi c'è questa nation league a giugno che gioca la semifinale proprio italia contro spagna a tuente e anche quella secondo me è una partita che potrebbe cambiare un po' l'umore della gente verso luis della fuente non so che aria si respira in spagna ho sentito qualcosa sulla radio però credo che giornalisti non ci sono andati tanto sul sottile no no per niente no no sinceramente l'hanno allora evidente come detto te sulla classifica sulla classificazione agli europei sinceramente non preoccupa e anche perché mancano ancora tante giornate poi comunque sarebbe cioè ne passano due quindi secondo me se non passassi sarebbe veramente una cosa molto brutta e una caduta del calcio spagnolo quindi io non lo metto sinceramente non lo metto in dubbio che poi la spagna riesca a passare però proprio non è piaciuto il sinceramente anche spesso iniziate il suo cercare di accontentare tutti anche quando ho sentito la sua intervista e gli andava bene tutto c'era molto gli allenatori devono prendere decisione soprattutto se sono decittive quindi la gente si chiede e lui stella fuente arriva dalla sub 21 la sub 21 alla fine un gruppo di ragazzi non ci sono mai prime donne quindi sono preoccupo questo questa manca di mancanza di carisma che gli possa servire a a fare delle scelte per portare per far sì che la spagna comunque possa possa andare avanti c'è anche molti dubbi sull'esempio sulle sulle convocazioni è stato detto Sergio Ramos non lo chiamo ok lo lo accettiamo perché comunque c'è i suoi annetti perché comunque il europeo è due anni quindi è giusto guardare a due anni di distanza però poi dopo mi porti gente come come carvajal che c'è i suoi annetti che comunque gioca una sì una no real madrid mi porti aspas che sembra più come detto te una scelta per far contento il popolo che per giocare e quindi qual è quello stesso nasce comunque è vero che sta giocando già sta giocando bene però comunque anche lui quanto gioca e poi vedete l'altro grande problema di queste convocazioni è che tantissimi non giocano nel proprio club dallo stesso nasce che ora sta giocando perché ci sono un sacco di infortunati però pedro porro non ha mai giocato col tottenham ha giocato poco e la porta è lo stesso e poi dopo ora se guardi no se baios alla fine è un rincalzo è il primo cambio però entra fondamentalmente a parte c'è stato un periodo dove ha giocato un paio di partiti titolari a fila quando mancava sia grosso che modic che ciò meni era fortunato però poi alla fine nell'ultimo mese se baios è il primo cambio che entra al 65 adesso gioca massimo 25 minuti a partita nel senso quindi per carità è un ottimo giocatore però il metro giudizio stato con se baios come ho detto nel precedente video è stato non è stato utilizzato per asensio che nella identica spiccicata situazione se baios e con ferran torres per esempio ok anzufati è un caso al momento speciale perché sembra un po' perso però quantomeno con ferran torres che ferran torres è vero non è titolare col barsellona quando c'è l'attacco completo però comunque si è giocato delle parti titolari è il primo cambio è vero che non è diciamo negli ultimi due anni ha avuto una la sua progressione si è arrestata però ecco è peggio di non so brian hill peggio di nico williams non so peggio di aspas probabilmente visto il valore singolo magari aspas rispetto a questi attaccanti che ci sono è il più forte però poi l'ha messo in condizioni per esprimere al celta vigo per esempio lui è il centro della squadra quindi la squadra gioca fondamentalmente per lui qua nella selezione è uno dei tanti e anche in passato anche con tre quattro anni meno quando è stato chiamato allo peteghi all'inizio con l'esterrique credo addirittura con del post chiamato aspas in nazionale non ha mai inciso così come non ha mai inciso giocando a liverpool non ha inciso una sevilla aspas è il giocatore tipico che esplode si esalta quando la squadra costruita intorno a lui però fa fatica a essere uno tanti a essere decisivo in un altro contesto non per disminuire il valore aspas che per me è fortissimo e per me è una leggenda di vigo e tutto quanto cioè io lo adoro però ovviamente va anche vista la foto in generale non solo l'angolo il focus non so che idea ti sei fatto anche sulle statistiche gol parte giocato e gol fatti assi spazio perché è vero alla fine ci sono spesso questi giocatori e io mi ricordo anche ai tempi c'era lo stesso hubner che tutti in italia lo chiamavano a gran voce perché hubner non va in nazionale perché hubner non va in nazionale succedente forse anche hubner per la sua stazza per era una specie di cosello quindi ci sarebbe forse anche più stato però aspas è proprio quel tipo di attaccante che ha bisogno che la squadra ci ritrovi talmente intorno a lui è fortissimo come detto te però poi dopo se non lo metti al centro dell'attacco è difficile che poi dopo lui riesca a arrenderti però vediamo se lo richiamerà o non lo so comunque almeno l'ha chiamato quindi sono tutti contenti che sia stato chiamato adesso possono stare zitti sì perché come ho detto sembrata quasi alcune scelte sono state fatte non so forse un pizzo di provocazione per marcare un po' il territorio per dire guarda questa è la mia nazionale quindi faccio il contrario di quello che ha fatto l'SRI che per carità è giusto chiamare il famoso piano B o in questo caso José Lu è giusto magari provare delle cose nuove in difesa tipo Nacio tipo David D'Azia per carità però anche l'assenza di Pau Torres che è il giocatore giovane più promettente come difensore spagnolo che è il Villarreal però lo volevano squadre della premia tutto quanto lo tagli del tutto Pau Torres che ha 25 anni non è che ce l'ha né 20 che dici allora ok un paio d'anni deve crescere ancora né 30 che dicevo ma è arrivata a fine corsa nel pieno della maturità è vero che anche lui non è Sergio Ramos però se è il giocatore più promettente gli devi dà fiducia lo devi chiamare caso diverso per esempio Eric Garcia che è il Garcia panchinaro fisso al Barcellona non è tutto quel fenomeno che pensava la gente pensava che diventasse il nuovo piquet il nuovo pugliolo quello che sia ha dimostrato che è di due tre tacche inferiori a per essere ecco per essere un campione all'altezza della nazionale quindi ci sta lui però Pau Torres mi ha stupito un po' l'assenza io penso che anche a lui stesso lui sia stupito non essere stato chiamato quindi sì vabbè però vediamo vediamo alle prossime come andrà comunque sì è la cosa di Pau Torres che è un titolare e io vedo che in questa selezione come anche durante il mondiale c'è una mancanza di una gran parte di titolari alla fine i titolari sono importanti perché ti rega i 90 minuti e quando ti trovi contro una Scozia che ti gioca di di fisico e se se non c'è giocatori che hanno i 90 minuti sulle gambe che non sono reattivi questo poi è quello comunque che che può succedere se poi anche il titolare ti sa amministrare la partita ti sa sa gestire le forze durante i 90 minuti sa quando magari deve accelerare quando deve abbassare per esempio questo lo fa bene Rodri che è stato uno dei migliori in tutte e due le partite della Spagna perché fondamentalmente è titolare nel match city Rodri e adesso che non c'è più Buschè finalmente le redini sono finite in mano sua è vero che Rodri non è Buschè è un tipo di giocatore differente probabilmente un pizzico meno di qualità rispetto a Busi però si vede che è uno che è abituato a giocare a titolare anche in determinate partite Champions League partite importanti Premier League quindi sa eh amministra ecco le energie le idee durante i 90 minuti questo è anche importante oltre al fatto fisico sì 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 perfettamente d'accordo va bene Filippo abbiamo concluso qua con questa parentesi sulle nazionali domenica cioè nel weekend tornerà la Liga questa Liga che al momento sembra indirizzata verso la Catalogna eh emozionante è al momento invece la lotta per non retrocedere perché ci sono sette otto forse anche nove squadre in un fazzoletto di punti quindi eh staremo a vedere ecco nelle prossime settimane quale squadre allungheranno e si metteranno in salvo e quali invece eh rimarranno nelle sabbie mobili del della zona retrocessione. Sì la verità che che sia beh la la Liga secondo me non ti dico che è segnata ma ma quasi cioè quindi io di chi la vince non ne parlerei e semmai potrebbe essere interessante chi che arriva al quarto posto tra la società del Betis e e poi vabbè sul il settimo posto tra l'Atletico e il Raio però la cosa evidente che quest'anno più sembra più emozionante è proprio la zona retrocessione con le grandi di Lustro Valencia e Siviglia che sono là e e poi gli altri che ogni tanto vincono perché alla fine quest'anno secondo me ha e mentre l'anno scorso con trentasei trentasette punti mi sembra siano salvate questi anni quaranta punti secondo me andranno andranno raggiunti e vedremo vedremo come l'ultimo l'ultima grande corsa fino all'arrivo va bene allora ti ringrazio Filippo ringrazio i nostri spettatori ricordiamo che seguiteci sul nostro canale YouTube sul nostro canale Spotify eh sui nostri canali Facebook il signore della Liga dove c'è Filippo che scrive della Liga del calcio spagnolo e su storia del calcio spagnolo il nostro canale eh anche noi scriviamo di calcio spagnolo siamo due canali gemellati nel nostro intento di portare la cultura e il football spagnolo anche in Italia allora arrivederci a tutti e buonas noces ciao ciao buonas noces ciao